Prima di cominciare lascia un like, iscriviti e attiva la campanella. Ah, io devo fare il dottor doom nel dominio, ah, con quattro giocatori, cioè da killarlo tre volte? Sì, sì, quello con quattro giocatori, diamo l'ore, dai, tanto ormai, a noi dottor doom ci spicciata. Ma si fa veramente? Ehi dai, facciamogliela. Ah, aiutatemi, scusami, è ancora il 21. L'avete trovato? No. Ah, è giù lì? Finitelo eh. L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, lo farei. No, ma perché conta, lo conta tipo condiviso, che ficata. Oh male. E' andato dentro il batter. Noccato, noccato uno, noccati due, morto uno, morto uno, morto uno, morto. morti due. Ma cosa c'avevano, vedi tutto? Oh. Anche un altro. Madonna questi lì, ma io veramente con la mitalletta riesco a capire. Oh. Ma i ragazzi ma sono infiniti, cioè, lo ha distrutti. Ok, ho costruito dentro. No, vabbè, ci sta, ci sta. Iuso. Ho fatto lo scudo. No, anculo. Ora basta. Ma se me lo merito Doom in questa partita, te. Vabbè, saremmi un pompa, sono lì lungo. Al beccone l'ho fatto. E bisogna andare a cazzire, poi. Vi ho fatto quella festa. Di dietro. Oh. No. No, devo farlo io, bastardi. Io sono qua e sto aspettando che tu venga contro di me. E se io mi son fermato prima? Vieni. Ok. Terrato. Te con l'Eliottero non devi fermarti prima di via, fermarti dopo di noi. E noi si raggiunge. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. C'è uno lì che nota, eh? Razzaro, razzaro. Vai, al prossimo. Vai. Finiti, eh? Ok. 22, 22, 22. Guarda. 116. Sì, all'autorità. Sì, vuoi. Sì, sì, sì. È l'agenzia. È l'agenzia. 116. Ehm. Sì, è lì. Sì, 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 sì. È il cicchino? Cozza il cicchio! Ehm. Te lo dico subito. Su, su, su. Terra. Vai più su! Ma trafino sopra. Ringliate. Gliatata. Un'altra. Forse l'ultimo del team Rotto lo scudo morto 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 è rotto è rotto è rotto Oh finalmente posso battare 29 grande 22 anche se là dentro Terra No 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 Pro occhio la curiosità è che da lontano ci siamo stiamo spaccando ci mettono in mezzo e si si tocca andagli lontano a pucciarezza Si avvicina sia vita all'acqua perché sennò poi bisogna E li e li e li dietro c'è spuglio alber Rotto loro c'è contro il terreno fianco io ho detto che mi nascondo ha fatto 90 milioni ha fatto 99 bianca quella sopra io ero 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 da sopra resta pressa c'è un altro su c'è un altro su quello solo l'ho fatto 99 di scelta no c'è un'altra vita a me arrivo si è sparato via mi sa no no qui 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 si 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 è blu dov'è a terra è eliminato andata 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 peccato le scelta di sotto parole gioia e scendini se vuoi e non è stato l'inclusione ma siamo si avanzano ma non ci sono certi che mi rini no ma scusa tranquillo 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 vai 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 terra 1 sopra qua bravo sparaci così così vai giù qua giù qua giù qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto 35 35 non ci arrivo lì non ci arrivo non ci arrivo pushando ho fatto gli scudi sto rompendo quelli tuoi non lo dovrei aver fatto restare 24 blu a 1 andare a terra a terra a terra c'è un altro ho finito eh ho finito vai 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 faccia la giù eh no portate attenzione perchè mi devo cura qui da me qui da me morto c'è l'ultimo ultimi due eh no che forse resta eh forse resta no 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 è sceso è sceso è sceso non ti sei bianco morto morto a terra 1 ha rivestato bastardo maledetta vabbè l'ho riatterato bianco giù 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 sotto di noi bimbi 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 vittoria mamma mia quanti che ti è fatto 22 io 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 ho 10 assist 10 10 15 16 14 assist e dopo ci hai fatto io ho 11 assist e 5 eliminazioni 20, Mario, quante kill? 5 25 kill Bella roba, oh Bella